Sul tavolo della questura di Pesero continuano ad accatastarsi fascicoli di minori fuori controllo. L'ultimo episodio è avvenuto mercoledì al parco Scarpellini di Muraglia, quando tre ragazzini fra i 15 e i 16 anni hanno derubato zaini e telefonini di 13 anni che stavano giocando a calcio nel parco. I ladri in erba si sono sbarazzati delle sim per farsi rendere irrintracciabili, ma eludendo solo parzialmente l'app di ritrovamento cellulare attivata dal padre di uno dei derubati. Così gli agenti della volante sono comunque riusciti ad individuare uno dei responsabili, a metterlo alle strette e a rintracciare anche i due complici. Una bravata può darsi, però è un episodio che si mette in coda a quello che aveva visto pochi giorni prima 20 ragazzini a cerchiare e picchiare un adulto in piazza Puccini di Villa San Martino o ai fenomeni di vandalismo e bullismo che mesi prima hanno portato al provvedimento senza precedenti del daspo urbano ad altri minorenni di piazzaredi. Responsabili però sempre individuati e che non restano impuniti. A rimanere però sono i tanti interrogativi in termini di educazione. Ci sono stati dei fenomeni in alcuni casi da parte di ragazzini, per lo più minorenni, che sono andati oltre. E complessivamente a Pesaro il sistema sicurezza devo dire che ha funzionato e ha funzionato molto bene. Purtroppo si sono verificati, come dicevo, alcuni di questi episodi da parte di ragazzi, per lo più anche minorenni, in alcune zone della città, ma in realtà è un fenomeno purtroppo anche abbastanza diffuso, nel quale si è andati oltre, si è arrivati anche ad episodi gravi che sono assolutamente da stigmatizzare, da condannare in modo molto fermo. Quando si verificano questi episodi, poi, come naturale, ci sono da parte delle famiglie che vivono nei pressi, delle abitazioni che vivono nei pressi di questi parchi, c'è una richiesta crescente di telecamere. Noi su questo stiamo investendo, però è anche difficile pensare di avere un presidio simultaneo di tutta la città tramite le telecamere, che sono comunque un investimento importante. Svolgono sicuramente una funzione di deterrenza e su questo quindi andremo avanti. Sono però episodi sui quali occorre intervenire non soltanto con la repressione, con la sicurezza, ma anche con tutto quel mondo che è quello della formazione e dell'educazione. Quindi riassumere un ruolo che devono farlo le famiglie, la società, la scuola, perché non sono tutti delinquenti, non sono tutti criminali, sono ragazzi che però devono essere riportati in un percorso, in un inserimento di formazione, educazione e anche di crescita, nel rispetto di persone e delle cose.